Perle Barocche in Irpinia. Da aprile a giugno percorsi sensoriali con musica, teatro, mostre, artigianato, escursioni e gran finale al carcere borbonico di Avellino con banchetto in costume d'epoca. Visite guidate in Irpinia su itinerari tematici alla scoperta dei luoghi del barocco. Chiese, architetture, dipinti, sculture, mille luoghi d'arte, infinite emozioni. Perle Barocche è un progetto promosso dall'assessorato al turismo della provincia di Avellino, cofinanziato dalla regione Campania con fondi FESRE 2007-2013. Obiettivo operativo 1.12